Nicola Molteni, come commenta la decisione che pare imminente da parte di Matteo Renzi di chiudere Mare Nostrum e di tornare a Frontex per risolvere la questione sbarchi sulle nostre coste? Dalle parole oggi del Presidente del Consiglio emerge tanto imbarazzo, nessuna risposta e nessuna soluzione seria per affrontare il problema dell'immigrazione clandestina. Mare Nostrum è un disastro, un fallimento, Mare Nostrum andrebbe immediatamente sospeso, dal 1 gennaio 2014 ci sono quasi 60 mila gli immigrati clandestini che sono sbarcati sulle nostre coste, più 823% rispetto all'anno precedente. Siamo a un'invasione di massa e questa è la responsabilità delle politiche filoimmigrazioniste, boniste, delle porte aperte della sinistra e del Ministro Alfano. Se la soluzione è di inglobare Mare Nostrum, che ripeto è un fallimento costoso, in Frontex saremmo al disastro al quadrato. Perché? Perché Frontex è un baraccone europeo con sede a Vienna che è costata dal 2005 ad oggi circa 60 milioni di euro che non ha mai svolto il proprio compito che è quello di proteggere i confini esterni dell'Europa. Per cui la topa sarebbe peggio del buco, nel senso che noi rischieremmo un'invasione ulteriore da parte dell'immigrazione clandestina. Quindi questa è la conferma che da parte di Renza, da parte di Alfano, da parte della sinistra non c'è alcuna volontà di affrontare il problema dell'immigrazione clandestina, ma l'unica soluzione è quella di tenere le porte aperte. Ovviamente da parte della Lega se dovesse subentrare questa ipotesi di un front di un Mare Nostrum 2 sarà barricate, proprio perché non possiamo permetterci in questo momento di poter accogliere nuova immigrazione clandestina. In questi giorni poi ci sono i comuni che ospitano questi immigrati che si sentono penalizzati dai costi, dalla gestione? È un fallimento sotto tutti i punti di vista. È un fallimento anche perché i comuni vengono lasciati soli a gestire con costi a carico loro questo fenomeno. Il problema dell'immigrazione clandestina è un problema serio ed è un problema grave. La Lega dice che questo fenomeno lo si può arrestare e controllare solo ripristinando le politiche adottate nel 2009 dal ministro Roberto Maroni, ovvero respingimenti, il controllo alle frontiere, gli accordi con i paesi che si affacciano sul Mediterraneo, con una seria politica di controllo e di contrasto all'immigrazione clandestina. Il governo Letta, il governo Monti, il governo Renzi non hanno fatto nulla di tutto ciò. Chi dice che l'immigrazione è una risorsa e una ricchezza lo dovrebbe spiegare ai 3 milioni e mezzo di disoccupati che abbiamo nel nostro paese, ai milioni di famiglie che non hanno reddito da lavoro, ai 6 milioni di cittadini che vivono sotto la soglia di povertà. Per la Lega prima viene l'accoglienza nei confronti dei cittadini italiani e poi nei confronti di tutti gli altri se ci sono le condizioni.